Sì, non so se a parlare, ho parlato con i suoi cittadinisti, sono venuto a posto del vento, io qui da Verona, io l'ho visto. Salve. Bologna, io l'ho visto per andare a un pizzo e un pizzo e un pizzo. Ah, ma è vivo, è il mio racconto che faccio sempre. No, ma il racconto, ma io c'ero, io dal 67 che non l'ho mai incontrato, quindi voglio dire, quindi siamo venuti, siamo venuti, siamo venuti, siamo venuti, siamo venuti. Sì, siamo venuti. Grazie.